Un quartiere in periferia, abbastanza piccolo, quasi come un paese. Qui tutti si conoscono. Come ogni sera stavo rientrando a casa. Faceva buio. Mi ricordo che c'era poca gente per strada. Stavo parcheggiando la macchina quando ho scoperto mia sorella davanti a casa. Ho capito subito che qualcosa non andava. Mi ricordo che c'era la macchina. Mi ricordo che c'era la macchina.